Ecco, Lea, puoi iniziare. Lea, apri il microfono. Ecco, Lea, vai. Buon pomeriggio e grazie per la partecipazione a questo che è il nostro secondo seminario del ciclo Il Corpo e la Polis, dedicato quest'anno a un tema che è sempre stato attuale, ma che la pandemia ha reso estremamente necessario, ma anche, come dire, ci ha dato tantoci anche la possibilità di aprirlo a un approfondimento, a un allergamento ulteriore, verso appunto quella che ormai cominciamo a chiamare la comunità della cura, il mondo della cura. Il tema, dicevo, di questo, il tema dei tre seminari, il primo l'abbiamo fatto a metà ottobre, il tema generale è la cura da destino femminile a responsabilità collettiva, sociale, politica, cioè come uscire, come far uscire la cura da quegli interni di famiglia, dove, sappiamo, è stata identificata con il destino naturale della donna, naturale in quanto estensione della maternità. Un'estensione, io aggiungo sempre, è un'estensione davvero, davvero abnorme dal momento che le donne curano bambini, malati, anziani, ma anche uomini in perfetta salute e anche nella, sappiamo, anche nel loro operaria sociale, le donne sono addette ai servizi alla persona. Quindi una maternità estesissima e considerata appunto naturale. Ecco, come portare la cura fuori da quegli interni di casa, che vuol dire toglierla dal privato, dalla privatizzazione, ma toglierla appunto dalla naturalizzazione come destino della donna, identificata col corpo e quindi con tutti i bisogni e le necessità del corpo, ma anche poi mercificata e razzializzata. Sappiamo che oggi non possiamo parlare più solo di divisione sessuale del lavoro, dobbiamo parlare anche di divisione, diciamo, tra virgolette, razziale del lavoro. Il lavoro di cura è oggi consegnato in gran parte, potremmo dire, a donne straniere, povere, eccetera. Quindi un tema enorme, un tema che si è, ripeto, imposto con la pandemia. Quando abbiamo scoperto che in quelle strade, in quelle piazze che si sono fatte vuote, deserte, c'erano comunque dei soggetti altri di cura, quelli che hanno permesso a chi stava in casa appunto di sopravvivere. Quindi già un allargamento, l'abbiamo visto in atto durante la pandemia, ma un allargamento è anche quello che ci auguriamo, dicevo, da un secolo e oltre di femminismo, no? E oggi forse è diventato anche un imperativo etico molto più condiviso. E nel primo dei nostri, abbiamo cominciato col primo seminario dalle esperienze di maternità, da un numero particolare, per me particolarmente interessante, di DWF, la rivista storica del femminismo, che raccoglieva esperienze di maternità, no? Cosa vuol dire oggi avere un figlio, eccetera? Esperienze che, ripeto, sono state poco raccontate nel lungo percorso del femminismo, quindi è rimasto un tabù la maternità. Io aggiungo anche l'amore, anche perché l'amore non è solo amore tra due adulti, è anche amore per un figlio, per una figlia. Quindi, diciamo, ci sono rimaste, diciamo, ancora poco indagate, forse perché sono le più problematiche, le più ambigue, le più ambivalenti, esperienze, diciamo, rimaste ancora indicibili, impresentabili, dell'esperienza femminile, tra questo la maternità. Il primo seminario è stato, da questo punto di vista, molto interessante, a mio avviso, proprio perché c'era, il partire da sé non era più solo una parola, era partire da vissuti, esperienze che le donne, 30, 40 anni, eccetera, hanno cominciato a raccontare in tutta la sua complessità e ambivalenza. E ecco, siamo partite da lì perché? Perché negli interni di famiglia ancora, no? Il, come dire, quello che nel libro a cui oggi invece faremo riferimento, che è il manifesto della cura, viene chiamata, come dire, l'archetipo, no? La mitologia, l'archetipo della madre, eccetera. Ma gli interni delle case, io dico, non potevamo che partire da lì, perché comunque è lì che ancora c'è questo annodamento forte tra amore e lavoro. Un lavoro, quello del domestico e della cura, che è stato, non a caso, confuso con l'amore. E forse è da questo innesto, no? Da questo aggrovigliamento che dovremmo, appunto, cominciare, un aggrovigliamento che dobbiamo cominciare a sciogliere. Se vogliamo far uscire la cura, appunto, dagli ambiti domestici, da questa identificazione con la donna, e farlo diventare, appunto, un paradigma per una società, una comunità di cura, un mondo di cura. E questo allargamento e questa articolazione necessaria per, se vogliamo, che la cura venga messa al centro dell'agenda sociale e politica, ecco, è necessario, dicevo, appunto, prima di tutto capire cosa avviene ancora nel rapporto, nella maternità, in quello che è stato un ruolo imposto, ma che le donne hanno interiorizzato, non solo, ma un ruolo da cui hanno strappato un qualche potere. Ma di questo parlerò poi dopo, che abbiamo sentito le nostre bravissime relatrici, che io ringrazio, ringrazio che siano qui con noi. Sono delle attiviste instancabili e quindi piene di impegno, contenta che oggi abbiano accettato di essere con noi. E oggi poi, ecco, volevo dire, prima di presentarle, volevo dire che partiremo questa volta dal manifesto della cura, questo manifesto che è stato il sottotitolo per una politica dell'interdipendenza, cioè, come dire, punto di partenza, è riconoscere appunto che gli umani sono dipendenti, fragili, interdipendenti e da lì, poi ricavare da lì alcune indicazioni per fare in modo che la cura diventi davvero una responsabilità di tutti. E a partire di questo manifesto della cura è stato tradotto da due delle nostre relatrici, relatrici qui con noi, da Marie Moise e da Gaia Benzi. Ringrazio moltissimo per aver tradotto questo straordinario manifesto. vogliamo che abbia la stessa diffusione del manifesto di Marx, a cui aggiunge, a cui porta delle arricchimenti. Non dobbiamo cancellare le grandi scoperte che ci hanno preceduto. Io parlo di Marx, che ha portato lo scoperto in rimosso economico, lo sfruttamento, il profitto. Parlo di Freud, la sessualità. Parlo del femminismo degli anni 70, che ha messo a tema la cancellazione della sessualità femminile, l'identificazione della sessualità come obbligo procreativo e la cancellazione della donna come individuo. E parlo di questo manifesto della cura che, ripeto, porta allo scoperto qualcosa che c'è alla base del vivere umano, non nel privato come nel pubblico, e cioè appunto la necessità della cura legata alla nostra fragilità, alla nostra dipendenza. Quindi un manifesto importantissimo. Ne parleremo in questo seminario, dicevo, estendendo il tema della cura dagli interni di famiglia a una comunità, quella che nel libro viene indicata spesso come comunità di cura. Dicendo però anche che cosa intendiamo per comunità e portando quindi anche esempi di come ci si può muovere verso quello che è un mondo di cura, un allargamento ulteriore che va a toccare anche gli stati, le istituzioni. Quindi parleremo, dicevo, in questo seminario in particolare cosa vuol dire una comunità della cura, esempi anche di solidarietà, mutualità, beni comuni. È un modo diverso, ripeto, di affrontare il problema della cura che non sia la sua privatizzazione, la sua mercificazione o razzializzazione, diciamo, no? Ecco qui e soprattutto perché non venga più considerato solo un lavoro improduttivo, il famoso lavoro d'amore. Ora nel terzo che faremo a gennaio invece vedremo di allargare ulteriormente a quella che nel libro viene chiamato capitoli dedicati a stato di cura, mondo di cura, quindi un allargamento ulteriore. Ma adesso vi presento, altrimenti poi parlo sempre io, come sempre dico che voglio ascoltare e poi parlo troppo. Quindi voi vi presento le nostre relatrici. Allora, intanto Marie Moise, PhD in filosofia politica, redattrice della rivista Giacobin in Italia, traduttrice militante, ha curato per la collana Feminist di Edizioni Allegre la traduzione del Manifesto della Cura, del The Care Collective, scusate la pronuncia, il collettivo della cura, che nel 2021 è uscito in Italia. Attivista dello spazio remake qui a Milano, bene comune a Milano, si occupa di progetti di mutuo soccorso per la condivisione del lavoro di cura. Poi noi c'è appunto Gaia Benzi, che è redattrice di Giacobin in Italia, ricercatrice di storia e letteratura italiana, attivista dello spazio romano Scoop, collabora con diverse testate. Poi Francesca, Francesca Coin, insegna sociologia all'Università di Lancaster, si occupa di disuguaglianze, collabora con Internazionale ed è redattrice anche della rivista Giacobin Italia. Poi Carla Maria Ruffini, insegna presso il Dipartimento di Psicologia dell'Università di Bologna. Attivista, femminista e transfeminista, lotto con il movimento non una di meno, collabora con il gruppo sulla depatriarcalizzazione della Rete Nazionale dei beni comuni. Io ringrazio di cuore per essere qui con noi. Io passerei a questo punto la parola a Marie Moise. Ciao Marie. Ciao Lea, grazie mille di questa introduzione. Mi aggancio direttamente proprio al discorso che facevi e riparto dal titolo che abbiamo dato a questa riflessione, perché ci sono già due parole chiave del ragionamento che chiaramente vorrei articolare insieme a voi comunità e cura. Eleonora Ciranti in particolare mi ha stimolato molto nel preparare questo intervento a riflettere su cosa significhi, di che tipo di comunità stiamo parlando quando proviamo a costruire una definizione di comunità di cura. Quindi vorrei partire da qui per poi andare a riflettere su che cosa significhi costruire relazioni comunitarie a partire dal tipo di spazio con cui entriamo in relazione col nostro fare comunità. E quindi diciamo, solo per tratteggiare, per punteggiare alcune delle definizioni a cui mi appoggio quando penso al concetto di comunità, come dire, sicuramente a proposito di Marx, che veniva evocato prima da Lea, parto dalla riflessione che fa Marx nella sua critica dell'economia politica negrondriste, per definire appunto, per comprendere come la situazione contemporanea abbia disciolto i precedenti rapporti comunitari che hanno appunto delle forme che precedono la produzione capitalista e quindi abbia disciolto un tipo di rapporto di proprietà comunitario alla terra e alla produzione. Poi però, come dire, mi è efficace il concetto di comunità immaginate che ha proposto Benedict Anderson che ci permette appunto di vedere come invece alcune comunità chiuse e corroborate da un'appartenenza identitaria, invece ci permettono di invisibilizzare i rapporti sociali odierni per costruire invece appunto delle appartenenze identitarie, in questo senso comunitarie, che spesso giocano anche sul tema della razza per costruire per esempio la comunità nazionale, in cui le donne peraltro giocano il ruolo delle riproduttrici di queste comunità immaginate. Riproduttrici di queste comunità immaginate perché sono innanzitutto riproduttrici della comunità più chiusa per eccellenza con cui facciamo i conti, che è la famiglia moderna, eterosessuale, patriarcale. Di che tipo di comunità allora stiamo parlando? Quando vogliamo provare a concettualizzare, a pensare alla trasformazione radicale a partire dal concetto di comunità, farei diciamo, come dire, problematizzo queste dimensioni e invece trovo molto produttivo e stimolante rapportarmi con il concetto di comunità che ha sviluppato il femminismo nero nel corso della sua storia, facendo invece, radicando la propria concettualità nella storia della schiavitù e della colonizzazione, a quei corpi a cui è stato impedito di costruire legami comunitari perché i corpi schiavi non venivano considerati chiaramente comunità ma mezzi di produzione, oggetti e parti quindi del corpo inorganico della produzione, a quell'esistenza, a cui è stato impedito di costruire comunità, accade che quindi affermare un legame familiare e comunitario diventi sia immediatamente espressione di un gesto di resistenza, di un gesto di affermazione di relazionalità, di una relazionalità che al corpo schiavo invece è costitutivamente negata. È da qui che prende quindi avvio per esempio la riflessione di Angela Davis sulle comunità come comunità di resistenza, comunità in cui la relazione si costituisce a partire dalla costruzione collettiva di pratiche di resistenza e condivisione di pratiche di resistenza a cui per esempio si appoggia Chandra Talpademoanti, una delle pensatrici del femminismo postcoloniale che appunto in Femminismo Senza Frontiere torna appunto su questo concetto di comunità basata sulla resistenza, che quindi non è costitutivamente aperta e orientata alla trasformazione. E di questo tipo di comunità prova a parlare anche il manifesto della cura, tornando anche questo testo su delle esperienze molto concrete di comunità, quelle appunto per esempio costituite dalle madri nere, dall'interno delle comunità stiavizzate, ma anche in post-abolizione della schiavitù all'interno dei ghetti razzializzati, dove l'othermothering, quindi la costruzione collettiva del ruolo materno e sostituirsi a vicenda in questo ruolo per permettere alle altre di lavorare, diventa pratica, pratica comunitaria. O le family of choice, il modo in cui la comunità queer LGBT ha costruito forme diciamo di relazioni parentali alternative a quelle familiari eterosessuali, proprio in virtù, proprio a causa delle essere stati espulsi, marginalizzati, dalle famiglie eterosessuali mononucleari moderne di provenienza. Quindi con questa idea di comunità mi sembra interessante però, o meglio, è qualcosa che sto provando in questo periodo ad analizzare, a riflettere, come il tipo di relazione tra di noi interpersonali che costruiamo non sono mai sconnesse dal tipo di relazione che costruiamo con lo spazio che dà corpo alle nostre relazioni interpersonali, intersoggettive. Henri Lefebvre, uno degli autori teorici della riflessione spaziale, ha un po' introdotto il problema che ogni rapporto di produzione richiede degli spazi specifici in cui prendere corpo. E questa riflessione mi sembra riattualizzabile oggi, pensando che anche ogni rapporto di riproduzione richiede dei suoi specifici spazi per darsi, per prendere forma e dare anche forma a rapporti di sfruttamento, di oppressione. Quali sono gli spazi in cui la cura prende forma in termini oppressivi e di sfruttamento? Sicuramente, lo introduceva anche Lea poco fa, sicuramente lo spazio del domestico, lo spazio del domestico che è lo spazio per eccellenza della comunità chiusa famiglia, in cui il tipo di cura che viene fornita è chiaramente asimmetrica, concentrata sulla donna che incarna il ruolo materno e quindi un sacrificio, cioè una cura che è sacrificio, un sacrificio in nome della cura e del luogo in cui si trova a fornirla e rogarla e che fa sì che le donne si debbano interessare a nient'altro che a quella comunità chiusa all'interno dello spazio domestico, mentre tutto ciò che avviene al di fuori di lì, diciamo anche per una questione di sovraccarico mentale dato dal lavoro di cura, non può concerne le donne allo stesso modo. È uno spazio che non semplicemente è patriarcale ed etorosessuale, è anche proprietà privata perché è uno spazio privato di relazioni private, guardate sul possesso privato dello spazio, che corrobora l'idea del possesso privato dei corpi che lo abitano. Un rapporto, quello della cura all'interno delle mura di casa, che come avrete già affrontato anche nella precedente riflessione, è un rapporto basato sul duale, su un'infantilizzazione, su una costruzione proprio di colui che riceve la cura nei termini di un infante e appunto che riceve in maniera passivizzante anche in un certo senso la cura che la madre fornisce in maniera totalmente unilaterale e verticale in un certo senso. Il privato si contrappone in questi termini allo spazio pubblico come invece lo spazio per eccellenza degli individui reciprocamente indifferenti della società capitalista, in cui l'altro mi è estraneo, quindi è costitutivamente la prima minaccia per la mia incolumità, per la mia rigenerazione di forze di energie e quindi, come dire, è la distanza, il dogma che si instaura all'interno dello spazio pubblico tra gli individui che appunto non si relazionano nella misura in cui non si forniscono cura a vicenda, non si danno cura a vicenda, non costruiscono tra di loro legami di cura, perché, come dice il Manifesto della Cura e già analizzavamo nella precedente, un anno fa, in realtà già a questo seminario, perché il sistema neoliberista, capitalista, è incurante secondo il suo stesso progetto, è progettato affinché noi non si costituisca legami di reciproca cura. In questo spazio, peraltro, il lavoro di cura che fanno le donne in questo mondo è totalmente invisibilizzato e svalutato, così come lo è dentro alle mura di casa, ma è uno spazio, quello della città, che non considera le traiettorie spaziali delle donne orientate alla cura, non considera le traiettorie delle madri che portano i figli a scuola, dei passeggini che devono essere portati giù in metropolitana, della vulnerabilità dei corpi femminili in questo mondo patriarcale che hanno fatica ad attraversare le strade poco illuminate della città dell'Incuria. Ed è uno spazio razzialmente organizzato anche in termini di cura, perché è uno spazio che si vuole bianco, pulito, candido, e che scarica la pulizia e l'igiene di questo spazio pubblico sui corpi razzializzati neri che devono svolgere questo lavoro di cura nelle ore in cui lo sguardo bianco non venga perturbato da questo tipo di lavoro. Ma è anche uno spazio in cui, quando la cura si fa servizio, servizio pubblico, continua a ricalcare le forme femminili e materne patriarcali della cura. Non a caso le donne che lavorano sono inserite principalmente nel lavoro dei servizi e non a caso il servizio pubblico continua ad essere organizzato secondo quella matrice duale del materno che passivizza chi riceve la cura del servizio pubblico, che non ha voce in capitolo nella gestione democratica dei servizi, che non vi partecipa e che spazialmente fa ingresso nel luogo di erogazione del servizio, che siano le poste, la dilo, la scuola, riceve il risposto al proprio bisogno di cura e una volta ricevuto esce senza percepire nessun rapporto di relazione, tantomeno di relazione di cura con questi spazi in cui appunto totalmente alienati in questi termini. E' peraltro la città, diciamo, lo spazio per eccellenza, la città pubblica, lo spazio per eccellenza di costruzione delle politiche della sicurezza. Un filosofo dei beni comuni, a noi della rete beni comuni, sul fatto che il termine sicurezza, come dire, comunichi sin dalla sua etimologia la sua essere radicalmente opposto alla relazione di cura, perché sicura in latino è quella parola composta dai due termini sine, cura, senza cura. E quindi sicura la città che nega la cura, in nome appunto di una tutela da una minaccia estranea da cui rifugo anziché cercare relazione e quindi da cui a cui nego la relazione reciproca di cura. Che cosa può significare fuoriuscire da tutte queste forme patriarcali, razziali e capitaliste dell'impuria? E' l'interrogativo appunto che prende forma, che prende corpo nell'esperimentazione degli spazi beni comuni, che innanzitutto fanno saltare l'idea appunto di relazione allo spazio come relazione di possesso e che mettono invece al centro il tema dell'uso, della relazione di uso, di ciò che appunto a cui entro in relazione perché ne ho bisogno, perché mi fa bene. E' sulla base di questo rapporto allo spazio che prendono forma le comunità di cura promiscua, per riutilizzare questo concetto del manifesto della cura, e che permettono appunto l'incontro di quelli che il sistema vuole individui reciprocamente indifferenti e che nello spazio bene comune invece possa entrare in relazione reciproca per una relazione che non è più duale, io mi prendo cura di te e tu ti prendi cura di me, ma che costruisce una relazione di cura verso una dimensione collettiva, un noi, e che prova a fuoriuscire dalla verticalità della risposta del servizio pubblico. Non sono scevri a ben vedere gli spazi sociali autogestiti beni comuni dalla riproduzione di questa logica, tanto di quello che viene definito mutualismo si rivela a ben vedere spesso assistenzialismo, proprio perché, come dire, in crisi come siamo di relazioni di cura patriarcali, tendiamo a riprodurre quel tipo di relazione di cura materna, duale, verticale, assistenziale, anche negli spazi in cui proviamo a costruire alternative. E penso che questo sia anche da leggersi rispetto a un processo di femminilizzazione della politica e degli spazi politici che ha preso piede da quando la pandemia ha rimesso al centro la necessità politica di rispondere ai bisogni di cura e ai bisogni sociali. C'è quindi una nuova partecipazione femminile che io trovo molto interessante e stimolante, ma che allo stesso tempo ha bisogno di essere ripensata, ridefinita, proprio per rimettere in discussione queste forme duali, che peraltro anche gli uomini tendono ad assumere anche quando nella loro militanza costruiscono mutualismo. Ma adesso non passo per gli esempi perché è finito il mio tempo, ritorno invece all'interrogativa iniziale. Si tratta quindi di pensare, di modificare gli spazi della riproduzione, gli spazi dei rapporti di produzione, affinché non rispondano più alla riproduzione del sistema capitalista patriarcale e raziale, ma alla riproduzione delle stesse comunità che gli danno vita, alla riproduzione possibilmente di quelle energie per generare conflitto con questo sistema di incuria. Quello che sicuramente è un po' una chiusa del manifesto, ma anche quella che per me è stata un'esperienza da dentro questo tipo di spazi, è far emergere al di fuori del domestico privato, al di fuori della reciproca indifferenza del pubblico, e a partire da una reciproca relazione di cura, che ciascuno, per frafrasare il manifesto, ciascuno e ciascuna di noi ha bisogno degli altri, delle relazioni di cura attorno a sé, e la sfida è riuscire a mettersi al centro anche di una dimensione comunitaria e relazionale per poterli esprimere, ma allo stesso tempo ciascuno e ciascuna di noi è in grado di prendersi cura, di dare cura, e non c'è, dice il manifesto, essere umano e non umano, per cui questo non sia vero. Mi fermo qui. Grazie Marie, grazie, grazie mille. Sentiamo Gaia, Gaia Benzi. Sì, eccomi, grazie, grazie a tutte, grazie Marie. Io in realtà riprenderò un po' da dove Marie si è interrotta, facendo questa bella introduzione su cosa intendiamo per comunità e cosa intendiamo come spazi di cura, perché è un'introduzione necessaria, insomma, che è fondamentale per capire un po' l'impostazione propositiva del manifesto, che è un testo che appunto cerca di analizzare l'incuria in maniera critica, l'incuria neoriberista, però propone anche delle soluzioni, e tra queste soluzioni insiste molto sulla necessità di espandere lo spazio pubblico per costruire comunità di cura. Però di che tipo di spazio pubblico parliamo? In questo senso l'introduzione di Marie era fondamentale, no? Uno spazio pubblico che per certi versi è rigenerato rispetto a quello che conosciamo, non è esattamente quello che abbiamo vissuto fino ad oggi, è già ripensato. L'introduzione del bene comune come categoria permette effettivamente di delineare i confini e le traiettorie di questo ripensamento, perché come diceva Marie, il bene comune sposta l'enfasi dalla proprietà all'uso che si fa di uno spazio, posto che la proprietà appunto resta un tema fondamentale, però anche all'interno di una proprietà pubblica e quindi collettiva. La proprietà pubblica e collettiva non garantisce la democrazia di questi spazi, non garantisce il fatto che siano spazi inclusivi. Come si fa invece a garantire queste cose, a trasformare questi spazi in luoghi dove effettivamente i rapporti di cura si possono esprimere in forma collettiva, in forma rinnovata. È l'uso che se ne fa. Quindi non il cosa avviene in questi spazi, ma il come avviene. Perché questa enfasi sul come? Perché è fondamentale andare a delineare i meccanismi che poi nel concreto ci permettono davvero di rendere questi luoghi dei luoghi non autoritari, quindi non sottoposti a una logica gerarchizzante e non assistenziali, perché appunto il rischio quando parliamo di cura è sempre quello di ricadere in vecchi schemi duali e verticali. Dunque il come, in questo come uno dei termini che citava Mari in chiusura è centrale e fondamentale, cioè il mutualismo, il mutuo soccorso. Perché? Perché è nel manifesto, ma anche un po' negli esperimenti concreti che poi vi andrò a fare. Il mutualismo è una bussola, è un contraltare, è ciò che si oppone all'idea di assistenzialismo, perché se l'assistenzialismo va da un punto a un altro in maniera spesso a punto verticale, il mutualismo prevede una circolarità, prevede quell'interdipendenza che è anche il sottotitolo del manifesto, per cui si può dare cura e si può ricevere cura. Quindi è possibile che chi ha un ruolo di cura sia allo stesso tempo un individuo che riceve la cura di cui ha bisogno e chi riceve cura è in grado di darla e quindi c'è un'interscambiabilità di ruoli a seconda delle circostanze. Quindi questa circolarità, che è un po' la base del mutualismo, l'idea che ci si aiuta a vicenda, è un meccanismo appunto totalmente assente adesso, anche se pensiamo al welfare e ai servizi come sono comunemente intesi e quindi è un nodo centrale anche nell'ottica del ripensare il sistema di welfare a partire da alcuni modelli che andiamo costruendo nelle comunità di cura. Il nodo del mutualismo, come si fa a ottenere questa circolarità? Non è semplice. Come diceva appunto Mari prima, spesso molti esperimenti poi finiscono per ricalcare l'assistenzialismo. Anche in ciò che abbiamo visto attivarsi durante la pandemia, non sempre siamo riusciti, riuscite a superare una fase assistenziale. Molti esperimenti anche di banche del cibo, di raccolta di beni di prima necessità, di distribuzione di questi beni, si sono andati modificando oppure si sono interrotti perché la spinta iniziale che c'era, che era quella del dare una mano in maniera molto, anche se vogliamo, pre-politica, a chi ne aveva bisogno a partire da un moto di solidarietà molto umano, quella spinta iniziale lì ha bisogno in realtà per essere poi produttiva, fuori era di relazioni differenti, di costruire appunto una circolarità. E quindi costruire questa circolarità com'è possibile? Un po' secondo il manifesto, ma anche secondo me, secondo quello che ho visto nella mia esperienza di attivista, il no della partecipazione. quali sono i meccanismi che garantiscono la partecipazione ai meccanismi decisionali e quali sono i meccanismi che permettono l'ingresso nella comunità di cura. Come si fa a entrare e far parte di questa comunità? quindi come fa la comunità essere inclusiva e appunto mantenendo una sua fisionomia e questo è un passaggio delicato, difficile ma fondamentale perché l'inclusività per essere tale deve essere un percorso di accompagnamento, quindi già un percorso di cura di fatto, già instaurare una relazione di cura e sia come si fa a prendere parte ai meccanismi decisionali della comunità stessa e quindi in realtà quando parliamo di mutualismo e parliamo dei meccanismi che lo rendono concreto e che lo permettono parliamo di democrazia. Le due cose sono assolutamente collegate. Nel momento in cui io ricevo, per esempio, aiuto di qualsiasi tipo da una comunità perché ne ho bisogno e appunto facevo prima l'esempio dei generi di prima necessità, nel momento in cui questo aiuto non avessi più bisogno di ricevere questo aiuto devo essere in grado di partecipare alla vita della comunità ed essere in grado di iniziare a essere parte attiva, scambiare e assumere un'altra funzione e appunto entrare a far parte di chi dà aiuto visto che non ho più bisogno di riceverlo. Per questo, prima ho citato due parole che però non sono, ho utilizzato due parole che non sono del tutto sovrapponibili, cioè ruolo e funzione. in realtà nelle comunità di cura più che i ruoli, più che la definizione di ruoli che tende a fossilizzare alcune figure, insomma che tende a sclerotizzare la vita comunitaria, forse si potrebbe iniziare a parlare di funzioni proprio per mantenere questa fluidità, fluidità e questa intercambiabilità all'interno dei rapporti di cura e appunto cercare di, il più possibile, attraverso i meccanismi democratici e mutualistici, di combattere le simmetrie strutturali e anche quelle che si vengono a creare lì dove si dà vita delle comunità. Ora, questo discorso che sembra molto astratto in realtà non lo è nel momento in cui si prova a dargli un corpo. Ci sono tanti esperimenti in questo senso in tutto il mondo. Il manifesto ne cita diversi, soprattutto tratti dal contesto anglosassone. Marie prima faceva alcuni esempi di comunità di cura appunto concreti dei decenni passati. Non ci sentiamo più. Non si sente più. Perfetto. Allora, io ero arrivata alla parte quella più concreta degli esempi. Ci siamo fino a qui? Sì, sì. Ok. Perché volevo fare l'esempio della Casa delle Donne Luce Siesta. Alcune delle cose che ho citato prima rispetto a concentrarsi sul come e non sul cosa, a definire i meccanismi della partecipazione, a non definire ruoli ma cercare di definire le funzioni in modo che queste funzioni possano essere il più possibile fluide e interscambiabili sono per esempio alcuni degli elementi teorici fondamentali che stanno entrando a far parte della dichiarazione di autogoverno della Casa delle Donne Luce Siesta nel processo che la vede costituirsi come bene comune, come bene comune transfeminista. In questa particolarità la Casa delle Donne di Luce è veramente un tassello d'avanguardia perché appunto è un esempio concreto in laboratorio politico di come provare a integrare il concetto più generale di bene comune e di comunità con un approccio femminista e un'attenzione particolare alla cura, alle relazioni e ai rapporti di cura. Sempre in quest'ottica di decostruire la gerarchia e combattere le asimmetrie. In questo senso diciamo la riflessione sul consenso e sui meccanismi per esempio che generano consenso su come si possono su come curare prendersi cura ecco questo sì dei meccanismi decisionali basati sul consenso come funziona praticamente prendere decisioni in questo modo è un tassello fondamentale e appunto per garantire quell'orizzontalità e quell'inclusività di cui parlavo prima. Perché dico che l'esempio di luce è un laboratorio politico così importante? Perché è chiaro che se noi vogliamo provare a decostruire i rapporti duali, patriarcali, passivizzanti di cui parlava prima Marie che troviamo nel settore pubblico e nel settore dei servizi e nel welfare così come lo intendiamo oggi dobbiamo costruire dei modelli alternativi e le comunità di cura in questo senso sono proprio dei terreni di sperimentazione e costruzione di modelli alternativi che ci permettono poi di capire o quantomeno di proporre e di delineare una possibile riforma di quelle istituzioni pubbliche che vogliamo che vogliamo attaccare quindi una loro una riforma una rivoluzione insomma quella proposta dal manifesto quando dopo i legami di cura le comunità di cura provo a fare i gradini successivi a parlare di stati di cura ed economie di cura però non è un caso che la progressione sia questa perché appunto come diceva anche lei prima bisogna per forza di cosa partire dallo spazio domestico e dalle relazioni dalle relazioni private perché se non si opera su quelle non si può neanche operare a livello di comunità allargate e allo stesso modo gli esperimenti che facciamo insieme alle comunità sono fondamentali per capire quali sono poi i nodi problematici da andare ad attaccare per riformare le istituzioni io mi fermo qui così poi magari aggiungo altre cose però mi sembra di aver detto di aver messo già tanta carne al fuoco grazie grazie Gaia sentiamo Carla Maria o abbiamo detto Francesca chi vuole o Francesca o Carla Maria per me è lo stesso vai Francesca allora dai vai facciamo Francesca vai tu Francesca come anche per me è lo stesso quindi se Carla Maria è pronta è uguale vai Francesca non c'è un problema nessun problema allora accendo la telecamera e intanto grazie per l'organizzazione per la possibilità di partecipare e per le bellissime relazioni di Maria e di Gaia e per certi versi io riprendo un po' come Gaia riprendeva da dove Mari lascia io un po' riprendo da dove Gaia e Mari sono arrivate perché a me di questo manifesto ha molto colpito il lavoro che facevano con la parola incuria che peraltro appunto la pandemia ha mostrato in tutta la sua violenza l'incuria e a me sembra una parola chiave anche per capire appunto come si creano queste economie di cura questi stati di cura e quindi quali sono le infrastrutture dell'incuria è una domanda che un po' mi perseguita e che per certi versi anche sempre per tornare a quello che diceva lei all'inizio che citava il manifesto di Marx e quello che diceva Mari quando citava il femminismo nero il femminismo mi sembra un po' la parola che ha anche fatto la differenza nel cercare di capire i vari assi di sfruttamento perché appunto se torniamo al manifesto di Marx Marx ci ha consentito di vedere lo sfruttamento però poi appunto negli anni il movimento femminista il movimento antirazzista hanno mostrato come questo sfruttamento si è incardinato nella nostra storia insomma sui corpi delle donne sui corpi appunto delle persone razzializzate e quindi un po' mi sembra che la parola incuria consenta di guardare a come in fondo la misoginia il razzismo siano un po' le strutture su cui si fonda appunto sia l'incuria in senso come relazione non di interdipendenza ma di separazione sociale e anche la legittimazione dello Stato a fare quello che ha fatto durante la pandemia cioè più o meno secondo me è stato dirci pubblicamente che era conveniente sacrificare alcune parti della popolazione piuttosto che prevenire il contagio piuttosto che proteggerle piuttosto che curarle e allora partendo da qui faccio solo volevo solo richiamare alcuni punti cioè alcune cose che sono accadute punti del test o punti delle relazioni precedenti ma alcune cose che secondo me la pandemia ha messo in evidenza perché un po' appunto la pandemia è stata una cartina tornasole anche di questa incuria cioè la propria sbattuta davanti alla vita c'era sbattuta davanti alla faccia e un pochino lo accennava lei a prima ma insomma ha mostrato che esistono delle gerarchie sociali che in fatalità sono così hanno sancito la divisione tra chi doveva curare tutti gli altri hanno definito essenziale un po' anche chi era così nominato o incaricato di curare le altre gli altri quindi appunto chi svolgeva il lavoro di cura nelle case nelle scuole negli ospedali però penso anche a chi consegnava le medicine a domicilio chi portava la spesa a domicilio e quindi per certi versi ha consentito alla vita di continuare per tutto il resto insomma della società chi si è fatto cura si è fatto carico appunto del lavoro di cura però la cosa paradossale di questa definizione di essenziale è stata che questo ruolo essenziale appunto che le donne svolgono che le minoranze svolgono che le persone nazionalizzate svolgono era inversamente proporzionale alla tutela che queste persone avevano al punto che appunto lo abbiamo visto in vari casi i tassi di contagio di ospedalizzazione di decesso sono stati superiori proprio tra le persone essenziali e quindi appunto penso alle minoranze razziali insomma negli Stati Uniti ci sono dati voglio dire in Inghilterra ci sono dati doppio tasso di contagio pardon triplo tasso di contagio doppio tasso di decesso in Italia ci sono meno i dati perché parliamo in molti casi appunto di persone che vivono nelle campagne dove fanno lavoro agricolo oppure appunto richiedenti asilo oppure persone senza fissa dimora per le quali comunque c'è stato un ritardo nella diagnosi generalmente di 8-10 giorni e quindi una gravità clinica più elevata un ritardo nell'arrivo agli ospedali e questo da un lato è stato cartinato una storia del fatto che la nostra società è gerarchica cioè tutta l'idea che appunto almeno diciamo la mia generazione ha avuto il lusso per poco tempo devo dire però di credere nell'idea di uguaglianza non lo è nel senso gerarchica è gerarchica lungo assi di genere di classe di genere di razza anzitutto e poi secondo me l'altra rivelazione almeno per me è stata che è meglio sacrificare che proteggere e qui appunto le cito proprio perché volevo proprio provare a ragionare sull'incuria e poi tornare un attimo appunto cioè c'è stato una fase abbastanza ampia ricorrente durante la pandemia in cui si è detto appunto c'erano così frasi forti come quelle del presidente della Liguria Toti quando diceva che gli anziani sono fragili ma non sono indispensabili alla produttività del paese queste frasi che insomma non sono generalizzabili ma in realtà mostravano appunto il persistere di nel senso comune e purtroppo nelle politiche pubbliche per quello lo Stato di appunto strutture di diseguaglianza quindi appunto un pensiero fortemente misogeno fortemente razzista fortemente così suprematista di fronte alle vulnerabilità e alla fragilità e queste sono rimbalzate da un lato all'altro del mondo nel senso che appunto da un lato all'altro del mondo ci sono state frasi come queste nel discorso pubblico ma non è solo il problema delle frasi nel discorso pubblico è un problema che poi queste cose andavano anche a influenzare le politiche pubbliche perché uno dei ragionamenti che faceva così influiva o condizionava o influenzava diciamo i governi nell'imporre o meno politiche di lockdown era proprio un ragionamento su quanti soldi proprio brutalmente costa proteggere le persone vulnerabili e quanti soldi di piste vanno a perdere invece se si chiude e questa cosa che io mi ero un po' studiata per me era veramente folgorante perché per esempio il governo inglese era stato dato uno studio che diceva che proteggere la vita di 400.000 anziani sarebbe venuto a costare 240.000 sterline il lockdown in termini di parità di PIL era 250.000 sterline e poiché si perde di più del valore delle vite che vengono protette allora tanto valeva tenere aperto e dico questo perché allora non solo c'è una gerarchia nella nostra società ma c'è un prezzo che viene dato alla vita delle persone un valore economico e c'è anche una logica appunto della sacrificabilità che finisce sempre un pochino nelle categorie vulnerabili nelle categorie nelle donne che vengono sacrificate nelle maggioranze razzializzate quindi è come se questo stato di incuria di cui ci hanno parlato fosse una politica pubblica cioè fosse la politica che mettiamola così per semplificare che i ricchi vogliono che lo stato segua però che appunto non ha soltanto una questione non ha soltanto una questione appunto di logica di ricchezza e povertà ha anche una storia appunto di misogine una storia di razzismo che ci portiamo dietro da vari secoli e quindi e quindi quello che quello che io quello che per me è un po' il grimaldello di tutta questa cosa è che cosa che cosa spinge poi la società a sentirsi che cosa spinge le persone a vivere l'interdipendenza a vivere l'altro come parte di un noi come parte di un collettivo di cura e quali sono invece le infrastrutture che creano estraneazione e straneità e che fanno sì che quest'idea del sacrificio dell'altro diventi parte non solo delle politiche dello Stato ma anche appunto una sorta di senso comune e qui e qui e qui un po' secondo me appunto uno dei temi fondamentali che si potrebbe vedere che si potrebbe vedere anche un po' in prospettiva storica nel senso che secondo me è stato proprio creato una narrazione anche che facesse sì che che ci fosse quasi un razzismo economico appunto se parliamo di stato della cura o di economia della cura nel senso che dagli ultimi 50 anni è stato detto che da prima proprio contro le donne nere è stato detto quando negli Stati Uniti di Reagan si diceva ci sono donne nere che vivono di sussidi si arricchiscono alle nostre spalle e non è giusto che queste facciano figli e non lavorino alle spalle di tutti quelli che pagano le tasse è come se questa storia di vivere alle spalle di quelli che pagano le tasse fosse stato proprio uno strumento economico di perpetrazione della misoginia e del razzismo e lo dico perché per venire alla questione appunto dello stato di cura a me è piaciuto moltissimo in questo manifesto il modo in cui appunto lo stato lo stato di incuria che abbiamo visto per certi versi sia altro da ciò che lo stato uno stato di cura potrebbe fare però giustamente dicono le autrici bisognerebbe riconoscere alcune cose cioè partire dal colonialismo che lo stato tanto più gli stati europei hanno esercitato poi il ruolo appunto di così di sfruttamento che è stato assegnato appunto alle donne alle minoranze e e poi dicono anche il primato del presente sul futuro che un pochino chiama in causa l'ambiente cioè il fatto che abbiamo sempre vissuto come se il pianeta fosse usaggetta invece non avesse non ci non ci non ci potesse essere un ragionamento diciamo in cui il futuro ha un primato sul sul presente e e quindi anche che un po' la genealogia che loro fanno dello stato che è sempre un argomento delicatissimo però giustamente loro fanno una genealogia anche della sanità pubblica che che parte proprio dal secondo dopoguerra quando per la prima volta appunto ci si poneva il problema dell'eguaglianza del diritto di tutti alla cura di tutte di tutti alla cura e ragiona anche un po' su come questo sia sempre stato osteggiato è come se leggendolo appunto un po' quest'idea di quest'idea di uno stato di cura si trovasse un po' a fare i conti con i fantasmi appunto che lo impediscono è come se secondo me queste strutture appunto di oppressione che vivono appunto di razzismo e di misoginia fossero o siano di fatto non solo l'ostacolo che 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 corrode l'interdipendenza nella società ma anche legittima l'esistenza di uno stato di incuria per cui è come se leggendo questo libro appunto poi si tornasse sempre al punto fondamentale di di guardare anche al presente in un'ottica appunto di genere e antirazzista per arrivare anche a capire come può essere pensato uno stato di cura piuttosto che uno stato di incuria ecco io mi fermai qui grazie Francesca grazie Carla Maria eccomi allora dagli dagli interventi che mi hanno preceduto credo che sia emersi in modo molto chiaro che il tema che affrontiamo è di estrema complessità tant'è vero che insomma sono state appunto volte diverse sfaccettature articolazioni appunto del tema e a mia volta insomma come dire vorrei approfondire degli aspetti che vanno a forse che forse sono utili per integrare questi punti di vista che in modo così appropriato sono stati espressi io ho cercato di pensare a un contributo che in gran parte è frutto di una riflessione ed elaborazione collettiva maturata in particolare all'interno del di Reggio Emilia e la cornice naturalmente del sbattito nazionale in corso e nel gruppo sulla depatriarcalizzazione della politica che opera nell'ambito della rete nazionale dei beni comuni cosiddetti emergenti a uso civico mi ha mi ha impressionato valorevolmente come odio il fatto che il manifesto della cura sia un'opera collettiva e credo che insomma come dire più che mai questo questo lavoro insomma che appena avviato appena bozzato sulla costruzione della della società della comunità della cura qualcuno parlo di società della cura insomma ci sono diversi paradigmi a questo proposito debba essere assolutamente una costruzione comune e quindi è molto importante che ci siano occasioni di discussione di confronto come questa e che si producano anche delle elaborazioni collettive mi sembra insomma particolarmente significativo proprio quando si parla appunto di comunità della cura e allora il mio è un contributo il rituale forse che anticipa probabilmente alcune delle considerazioni che farà che farà Lea sulla sull'ambivalenza della cura sull'ambiguità della cura che la cura l'idea il costrutto di cura porta con sé perché 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 credo che l'esigenza sia ecco io mi concentrerò di più sul verso che sulla sulla comunità sul termine comunità insomma in questa questa locuzione appunto mi concentrerò più sul verso che sulla comunità e cura e non trasporando ovviamente questi aspetti ma insomma cercherò di vedere un processo che può portarci appunto a questa a questa opera collettiva alla chiamo così e credo appunto che ci sia la necessità di rappresentare la società che sta cambiando puntuosamente che con la pandemia è davvero cambiata in modo sostanziale non ancora ovviamente nella direzione auspicata anzi credo in una direzione contraria utilizzando nuove più adeguate chiavi di lettura del presente fuori da quegli schemi consolidati e per questo forse consolatori in cui spesso ci chiudiamo come in una una sorta di gabbia che c'era sicura e vorrei focalizzarmi fin dall'inizio sulla possibilità che lo sconvolgimento provocato dalla pandemia purtroppo non possiamo ancora utilizzare la categoria della post pandemia sia fonte di ripensamento di ridefinizioni di riprogettazioni nella prospettiva di un percorso autenticamente trasformativo dell'assetto politico sociale esistente si potrebbe dire credo che il tema che affrontiamo in questo bellissimo interessantissimo seminario che appunto si chiama verso la società della cura si collochi in una dimensione hardware noi femministi la definiremo strutturale perché si tratta di un tema che consideriamo cruciale e imprescindibile non solo nell'analisi femminista e trasfeminista del presente ma anche nella riflessione ed elaborazione sulla comunità della cura così come su altri paradigmi e progetti di trasformazione radicale della società proposti dal lockdown il tema della cura e della riproduzione sociale della vita e insisto molto anche su questo concetto e il nesso tra queste idee comuni e la prospettiva appunto della costruzione della della vera e propria di un'autentica comunità di natura il nesso tra beni comuni e da una parte pure di produzione sociale dall'altro ecco credo che sia un tema molto molto delicato molto complesso come dicevo prima e che richiede richiederà probabilmente ulteriori approfondimenti spero che nel mio contributo insomma emerga un po' dal dall'analisi appunto che tenterò di fare diciamo allora il tema della della cura e della rivoluzione sociale che va sempre al centro delle riflessioni e delle lotte femministe ma eternamente ignorato e rimosso dalla coscienza collettiva in primo luogo dall'economia neoliberale dal sistema politico che la sostiene è balzato agli onori della cronaca durante l'emergenza covid per le ragioni che ben conosciamo nella letteratura femminista e di genere ma soprattutto nelle testimonianze vive delle donne si denuncia come sia sempre stato attribuito al lavoro di cura e di riproduzione sociale o almeno a gran parte di esso il carattere dell'indisibilità il covid alla fine è stato l'abbiamo detto in tante occasioni è stato un grande disvelatore di condizioni di aggressione patriarcale e di disuguaglianze economiche sociali culturali e di genere per fare solo un esempio l'aumento esponenziale della violenza a mille case che avrebbero dovuto rappresentare un rifugio sicuro contro la violenza virulenza del virus ha dimostrato che il lavoro domestico è strettamente intrecciato alla violenza rappresenta un vero e proprio pericolo per le donne e durante il lockdown di fronte alle esigenze poste da una situazione emergenziale di fragilità e vulnerabilità generalizzata il termine invisibile è stato sostituito dal termine essenziale non parlava prima anche Francesca che immediatamente e con disinvolta strumentalità è stato sostituito no scusate con disinvolta strumentalità il potere e i media hanno fatto proprio esaltando come un delirio politico mediatico il valore sociale delle attività di cura e riproduzione della vita in quel momento chi di noi non ha pensato a una possibilità di presa di consapevolezza diffusa e immediata e di ridefinizione delle gerarchie e dei poteri in tempi non pubblici come di solito avviene nelle nostre trasformazioni cito Ida Dominiani ma potrei fare tante citazioni comprese comprese insomma citazioni di molti scritti di Lea per comodità insomma perché ce l'avevo ce l'avevo scritta la riproduzione della vita ha acquisito finalmente la precedenza su ciò che ha a che fare con la produzione di beni purtroppo finito il lockdown nella cosiddetta fase di ripresa abbiamo dovuto fare i conti di nuovo e di più con quelle condizioni di vita e lavoro sfruttato fonte di violenza patriarcale sempre disconosciute e negate inghiottite di nuovo dalla macina del sistema neoliberale in ristrutturazione e rimesse al loro posto nella narrazione esprimorata del capitale esattamente come prima senza l'ombra di alcun vero riconoscimento che non fosse la retorica delle eroine e degli eroi dell'emergenza e anzi trattate con più aggressività rispetto a prima con l'intensificazione e lo sfruttamento delle lavoratrici italiane con ancora più accanimento sulle lavoratrici integranti in virtù dell'importanza assoluta che hanno assunto per il sistema della ristrutturazione sociale i servizi sanitari e non solo nell'emergenza sanitaria e sociale ricordiamo solo per fare un esempio ricordo per fare un esempio le migliaia di salariati della cura che a causa di decenni di tagli alla sanità pubblica come infermiere e operatrici sociosanitarie vivono una sorta di precariato patriarcale che falleva proprio sulla naturale propensione alla cura attribuita alle donne per imporre bassi salari e condizioni di lavoro sempre più oppressive e che dire delle lavoratrici della scuola dove le lotte dei mesi scorsi rendono evidente che parlare di genitori oppure di precari nasconde la macroscopica evidenza sociale che sono soprattutto le madri che hanno bisogno che la scuola resti aperta per non perdere il lavoro sono prevalentemente donne le insegnanti che hanno lavorato in condizioni impossibili per garantire la didattica a distanza prima e la riapertura a voi e sono in gran parte migranti le lavoratrici e le madri che ogni giorno puliscono e igienizzano gli istituti scolastici le donne e le soggettività non conformi sono impegnate da anni in questo campo di scontro in primo luogo attraverso lo sciopero globale finista che nonostante le restrizioni e i vincoli posti ha continuato a vivere nelle lotte contro la riorganizzazione patriarcale e qui insomma vorrei spendere una parola a proposito della qualità dello sciopero ma insomma la dico così molto brevemente e ecco e a questo punto come dire sorge una domanda non solo spontanea insomma ma anche urgente a cui è urgente dare una risposta possiamo pensare che il progetto della società della cura se vuole agire in una prospettiva trasformativa realmente trasformativa possa prescindere da questo noto strutturale perché come dire è diventato ancora più evidente che la cura e la riproduzione sociale sono un campo di scontro non di ricomposizione e quindi come dire propongo che il verso la comunità della cura parta proprio da qui come fare a partire dalle laceranti contraddizioni fatte emergere dalla crisi pandemica ma anche dalle situazioni di lotta in atto e potenziali rompere identificazioni tra donne e soggettività non allineate da una parte e riproduzione della vita dall'altra identificazione imposta dal patriarcato per assicurarsi la cura di sé e dei propri meccanismi di produzione con ancora più evidenza durante la pandemia perché la riorganizzazione del del capitalismo del neoliberismo ha determinato una recrudescenza di questi meccanismi di oppressione chi potrà dovrà farlo con quali modalità e strumenti e con quali tempi ecco credo che questa è una domanda cruciale mi fermo qui se si può parlare in seguito come ci proponeva Leo volevo appunto proporre un un dialogo un breve dialogo con alcune pensatrici femministe a proposito di questi temi grazie grazie casa Maria una ricchezza grande di temi straordinarie grazie per queste relazioni intensissime devo dire sì concentrate sintetiche ma intensissime piene di piene di temi su cui dovremmo riflettere ma il breve contributo che posso dare io è quello di sempre insomma quello di riportare l'attenzione appunto su su un dominio un dominio particolare come è quello appunto maschile sessista che passa attraverso le esperienze più intime e la cura ha sicuramente a che fare legata alle esperienze più intime intanto quindi io parlerò appunto di tutte le ambivalenze le contraddizioni e quindi le difficoltà a svincolare la cura da quello che è stata per millenni poi si parla di archetipo semplicemente per dire che stiamo parlando di una costruzione di una creazione che ha radici profonde nella vita psichica nell'inconscio collettivo nella storia come ripeto nell'immaginario e nell'inconscio collettivo che è appunto che è all'origine la differenziazione tra il destino del maschio e della femmina polarizzato in un dualismo che è quello tra natura e cultura corpo e pensiero insomma identificare le donne col corpo vuol dire appunto identificarle con l'aspetto umano dell'umano che è anche il più vulnerabile che ti dà la nascita segna anche il tuo destino mortale quindi quel corpo che appunto che genera è anche il corpo che sta lì a segnare quello che ripeto è la mortalità degli umani e identificate col corpo vuol dire identificate anche con tutti i bisogni del corpo a partire dall'infanzia fino dalla nascita fino alla morte e non c'è dubbio che le donne il corpo femminile accompagna gli umani dalla nascita dalla culla fino alla morte sono loro che assistono dicevo che nutrono si prendono cura della crescita di un bambino sono quelli però che curano anche i malati gli anziani eccetera quindi le donne nel privato come nel pubblico sono questa figura questo soggetto essenziale di cura che attraversa tutta la ripeto tutta la tutta la vita sociale dal privato dal privato al pubblico e voi l'avete descritto questo tratto di essenzialità del femminile l'avete scritto l'avete detto molto bene ora qual è l'ambiguità l'ambiguità intanto è che identificate col corpo le donne hanno subito sia le donne che il corpo e quindi le cure di cui il corpo ha bisogno quindi la sua vulnerabilità ma anche la sua dipendenza interdipendenza sono appunto state hanno avuto storicamente un destino di svalutazione ma anche e per dirlo con Virginia Woolf di esaltazione immaginativa non dobbiamo dimenticare appunto l'esaltazione che viene fatta appunto della maternità della donna c'è un'esaltazione immaginaria molto forte a cui fa appunto contro cui va a urtare invece l'insignificanza e la svalutazione di fatto e questo è un'ambiguità in cui le donne si sono venute forzatamente a collocare hanno dovuto fare i conti con un ruolo che al medesimo tempo non sono ne solo esaltato immaginativamente poi svalutato sfruttato eccetera ma è anche un ruolo che come dire consente di esercitare un potere non è un potere da poco quello che del corpo che ti mette al mondo e che ti dà le prime cure le prime sollecitazioni sessuali e che poi un corpo che ti accompagna nella vita adulta in una sorta di prolungamento del rapporto dell'amore nella forma originaria che noi ritroviamo nella vita amorosa adulta in quello che io ho chiamato su cui ho scritto e riflettuto a lungo che è il sogno d'amore come illusione desiderio di appartenenza intima a un altro essere ecco dicevo questa vicenda che appunto affonda le radici e l'origine dell'umanità in questa ripeto differenziazione violenta alienante dell'origine tra il destino del maschio e della femmina dicevo questa vicenda è cambiata molto poco se pensiamo a quelle che sono le relazioni le relazioni amorose e non parlo solo di quelle interosessuali nella relazione amorosa il due torna il due della coppia il due dell'unione a due della fusione di due in uno ritorna ed è quello che ostacola il passaggio a noi e non dobbiamo sottovalutare appunto questa difficoltà le donne nel ruolo materno nel ruolo di cura come dire hanno esercitato un potere certo un potere che lo dicevate già molto bene anche voi non va non aiuta né chi lo riceve né chi lo dà né chi lo riceve l'infantilizzazione come dire va a urtare contro il bisogno invece di autonomia dell'adulto è alla radice di tanta violenza nella violenza domestica lo sappiamo che è proprio nel momento in cui questa illusione da parte maschile di proprietà della donna e da parte femminile anche di appropriazione in qualche modo del figlio eccetera va a urtare quando ripeto questa illusione si rompe quando qualcosa viene a cambiare quando questi corpi non sono più a disposizione ora il potere di rendersi necessari e indispensabili all'altro è vero sono al centro dell'ideologia patriarcale ma sono stati anche interiorizzati dalle donne come potere un potere tutto sommato a sostituzione di altri poteri che non hanno avuto e quindi da questo potere le donne ha ricavato anche un qualche piacere diciamo quindi è difficile è importante ripeto continuare a interrogare la maternità il materno anche come è entrato nella storia del femminismo come continua a entrare nella storia del femminismo io sono rimasta molto colpita dal conflitto diciamo proprio dello scontro che è nato all'interno del femminismo a proposito del DDL ZAN quando si è temuto che l'apertura verso delle soggettività non conformi che patiscono dello stessa violenza che hanno subito che patiscono della violenza in conseguenza proprio della violenza che hanno subito le donne della misoginia la trasfobia la lesbo e gay insomma tutte le forme di fobia verso le soggettività anomale hanno la radice la misoginia la violenza sulle donne mi ha stupito ripeto pensare che questa apertura fosse la cancellazione della donna del corpo e poi la donna identificata ancora una volta col corpo che genera le donne che hanno appunto donna è solo quella che può partorire eccetera quindi vuol dire che col materno e con la maternità e col materno noi abbiamo ancora molto dobbiamo ancora molto molto fare i conti molto ascoltare vite indagare eccetera se vogliamo che questo due si apra a noi ecco e nella poi devo dire che quello nei vostri interventi che ho trovato molto interessante e tutti questi temi cioè siamo davvero di fronte di nuovo a delle esigenze radicali come sono state quelle per me negli anni settanta cioè l'individuazione di un possibile di ciò che è possibile e che attualmente appare ancora impossibile o lento o difficile però è un altro mondo possibile quello che questo manifesto della cura delinea e nel termine mondo ci sono dentro c'è la società no? ci sono ci sono c'è lo Stato c'è il mondo c'è il rapporto con la natura quindi un'apertura straordinaria e un'articolazione del tema della cura davvero che è la prima volta diciamo che anch'io riesco a pormelo in questi termini non senza ripeto una qualche difficoltà ecco perché quando si parla l'abbiamo visto nel momento le difficoltà quali sono e come diceva mi sembra proprio diceva Maria Maria Carla prima si apre nel momento in cui noi avviamo questo questo processo no? di di cura promiscua di una cura che esce dalle pareti domestiche dal gestino naturale della donna eccetera eccetera si apre un campo di scontro si apre un campo di conflitto in conflitto sono già quelle poche o tante che ci sono perché non ne abbiamo notizia quelle tante sperimentazioni di beni comuni luoghi pubblici che si trasformano appunto in luoghi di pratica di cura collettiva lo sappiamo difficili per le problematiche che si muovono all'interno di assicurare delle strutture non gerarchiche come non riprodurre quelle stesse forme di dominio di sfruttamento di gerarchia che noi critichiamo appunto nella società dell'incuria del neoliberismo del patriarcato come non riprodurle io vengo dall'esperienza degli anni settanta abbiamo visto allora proprio perché si aprivano delle alternative abbiamo visto anche il fatto che dentro quelle che noi vedevamo quelle che erano appunto delle alternative si riproducevano gli stessi meccanismi di dominio che noi criticavamo quindi ci vuole una grande una grande attenzione una grande attenzione a mantenere appunto questa fluidità questa capacità questa orizzontalità insomma non riprodurre ripeto questi meccanismi ma questi meccanismi li riproduciamo perché li abbiamo dentro perché volente o no abbiamo interiorizzato quei modelli abbiamo interiorizzato una storia millenaria di sfruttamenti di domini e di varie forme questo è un pericolo quello interno diciamo le nuove forme le nuove esperienze che ripeto ancora una volta anche lì dal noi come dire ritorni si riattualizzati il due il bisogno di assistenza il bisogno di protezione dal bisogno di un leader di un capo insomma si riproducono questi modelli e l'altro viene da fuori non è quando noi abbiamo visto vediamo in questi anni e davvero lo trovo veramente sconcertante che ci sia un accanimento proprio contro quegli spazi pubblici che sono diventati bene comune e dove si opera un cambiamento dell'umano io dico proprio di un modello di civiltà dove nascono forme nuove di relazione appunto che non sono di sfruttamento non sono di dominio e così via il remake è un'esperienza straordinaria lo conosco tantissimo però quel tanto che mi basta per capire che è aperto un campo evidentemente di scontro di conflitto è così luce e siesta tutte queste realtà ma ci metto anche le case delle donne cioè il tentativo come dire proprio di proprio perché aprono un conflitto rispetto a che cosa rispetto a dei modelli tradizionali patriarcali e non solo liberisti patriarcali no? cioè creano una realtà creano un'alternativa a quello che è stato finora la famiglia tradizionale la famiglia cosiddetta naturale non è un caso che stiamo tornando poi cioè si è aperto un conflitto perché si è aperto un'idea di libertà diversa un'idea nuova che va a scardinare a sconvolgere l'ordine tradizionale che è stato che ha avuto al suo centro la cura e quindi le reazioni sono quelle delle forze politiche non solo di destra purtroppo ecco che c'è il tentativo di appunto mettere un muro originale impedire che nascano delle forme che non sono quelle ripeto della famiglia tradizionale va in questa direzione il richiamo delle donne a far più figli no? la paura poi di appunto per difendere la stirpe ho detto brutalmente perché perché appunto la paura che siano donne straniere a generare figli eccetera a inquinare così via quindi stiamo tornando come dire il ritorno a delle forme reazionarie violente barbare eccetera patriarcali del più vecchio stampo sono proprio legate invece a queste esperienze nuove che vanno a intaccare ripeto la questione della riproduzione della cura nella sua essenzialità e nel fatto che è stata da sempre legata al femminile la femminilizzazione oggi non fa altro che svelare è quello che già sappiamo e certo oggi è più esplicita è più chiara quando si dice quando si parla di talenti femminili del valore di che dovrebbe sostenere un'economia in crisi si dice in sostanza che si ha bisogno di quelle doti femminili di cura di ascolto eccetera eccetera quindi in sostanza è una riproposizione di qualcosa che c'è sempre stato la società ha sempre usufruito nel privato come nel pubblico di risorse femminili ecco allora forse questo nuovo modo di ragionare di riflettere in così con questa apertura straordinaria della cura dice che forse questa risorsa non è più così non sono questi corpi ma proprio in generale diciamo pure questa risorsa femminile legata alla cura alla riproduzione non è più così disponibile purtroppo come non è più disponibile lo sappiamo non sono più disponibili le risorse naturali quindi il femminismo come l'ecologismo l'ambientalismo oggi sono i temi centrali stiamo assistendo a una a una a una crisi di tutto ciò che è stato finora il terreno il grande sostegno di tutte le forme di dominio che hanno al centro alla radice il patriarcato anche se poi dal punto di vista economico e politico hanno assunto delle forme diverse ma alla base c'è il patriarca alla base c'è la violenza contro le donne c'è il sessismo c'è il rassismo c'è il colonialismo quella è la base e io devo dire che anche seguo con molto interesse non una di meno la mia da un lato con il grande come dire riconoscimento riconosco non una di meno questa apertura grande apertura che mette a tema tutte le forme di dominio noi negli anni 70 dicevamo modificazioni di sé del mondo mondo era ancora un termine generico oggi per non una di meno mondo vuol dire appunto vuol dire sessismo insieme a classismo razzismo tutte le forme di dominio di sfruttamento però io insisto teniamo conto che mentre queste altre forme di dominio hanno storia già il sessismo è ancora una storia breve è recente la presa di coscienza alla radice partendo dai corpi dalla sessualità di cos'è stato il dominio maschile e si perde per primo ecco dobbiamo dovremmo cercare appunto di mantenere e per questo insisto sul fatto di dire interroghiamo ancora a fondo l'esperienza femminile il fatto che le donne purtroppo sono state l'anello di trasmissione loro malgrado della legge dei padri continuiamo a interrogare appunto soprattutto quell'annodamento profondo che questo come dire che è la maternità la cura eccetera proprio come legame di indispensabilità all'altro questo è il più difficile evidentemente da da intaccare quindi torniamo sempre continuiamo a interrogare il sé in tutte le modi in tutte le nostre tutte le situazioni in cui ci veniamo a trovare sia quelle private che quelle pubbliche mi fermo qua e ringrazio davvero per la ricchezza dei temi adesso noi ci fermiamo un attimo come facciamo sempre poi apriamo la discussione e così avremo approfondimenti ulteriori ai nostri interventi grazie a tutti